RIA, ovvero le indennità individuali di anzianità, un extra in busta paga per i dipendenti e dirigenti regionali aumentato ai massimi anche a 1200 euro in più al mese da un improvvida legge del 2007 che poteva costare ai contribuenti abruzzesi un salasso da 100 milioni di euro se non fosse stata dichiarata incostituzionale nel luglio 2014 con una sentenza della consulta che è arrivata però quando molti buoi erano scappati dalla stalla, ovvero quando oramai un imprecisato numero di dirigenti e dipendenti sono potuti passare comunque all'incasso, forti di un ricorso passato in giudicato e dopo il luglio 2014 anche a causa, denuncia il sindacato UIL, per l'inerzia della regione che in una ventina di casi non si è opposta alla sentenza di primo e secondo grado anche se è forti di una sentenza della corte a suo favore. A queste incredibile vicende è stata dedicata oggi la seduta della commissione vigilanza e ad essere ascoltati in primis proprio una rappresentanza del sindacato UIL che chiede l'apertura di un'inchiesta penale contabile in modo tale che chi nella struttura regionale abbia eventualmente sbagliato paghi di tasca sua. Abbiamo chiesto che ci fosse un'indagine all'interno della giunta regionale per verificare se ci sono state delle come noi abbiamo rilevate grosse anomalie quindi verificare il comportamento se c'è stato un comportamento corretto da parte della struttura regionale sull'argomentoria. Finora la regione ha sborsato in indennità retrate 2,2 milioni di euro e c'è anche un altro aspetto su cui urge fare chiarezza a quale titolo l'ufficio del servizio risorse umane sta procedendo alla liquidazione significative somme di denaro e se c'è o meno copertura per farlo nel bilancio. Se si tratta infatti di debito fuori bilancio dovrebbe essere riconosciuto dal voto del consiglio regionale. Ci sono una dozzina di pratiche che in effetti meritano attenzione però non è l'organo della commissione di vigilanza che deve fare questo per cui invieremo le carte ai revisori dei conti e credo che loro debbano essere ad intervenire. Ci sono stati dei ritardi nella opposizione alle cause e quindi le sentenze sono passate ingiudicate e quindi si è dovuto pagare. Proprio perché si parla di errori e di omissioni mi pare chiaro che si intravede da parte dei sindacati un errore da parte di coloro i quali avrebbero dovuto come dire tener conto della sentenza della Corte Costituzionale e se non l'hanno fatto e hanno provveduto come dire in maniera definiamo superficiale a erogare queste somme e allora appare chiaro che probabilmente ci sono delle responsabilità.